Maxi sequestro di cocaina tra la Toscana e l'Umbria grazie ad un'operazione dei carabinieri di Arezzo. In tutto sono stati sequestrati 17 kg di cocaina e oltre 70.000 euro in contanti. L'operazione ha preso il via dal monitoraggio di alcuni personaggi sospetti, italiani e stranieri, che gravitavano nel mondo dello spaccio di stupefacenti. I pedinamenti sono iniziati nella primavera del 2021 e sono durati alcuni mesi. Il sospetto degli inquirenti era che ci fosse un deposito di droga in Umbria. Il blitz autorizzato dalla procura di Arezzo è scattato alle prime luci dell'alba. I carabinieri e aretini sono stati coaiuvati nelle operazioni dai colleghi della compagnia di Foligno. I primi controlli sono stati effettuati in due abitazioni, ma lì i militari non hanno trovato lo stupefacente, soltanto 12.000 euro in contanti. Nell'auto di uno dei sospettati, i carabinieri hanno poi scoperto un vano dove probabilmente veniva nascosta la droga per il trasporto. Nella perquisizione di un garage, infine, sono stati ritrovati i 17 chilogrammi di cocaina e altri 60.000 euro in contanti, oltre al materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente, una volta immesso nel mercato, avrebbe fruttato oltre 1.300.000 euro. È stato arrestato un cittadino di origini albanesi e un altro connazionale è stato denunciato.